Un saluto ai telespettatori di Le Fonti TV e ben trovati a questa nuova puntata con le interviste di Le Fonti Legal. Oggi parleremo di una delle misure ritenute più innovative inserite all'interno del nuovo codice della crisi di impresa. Mi riferisco agli strumenti di allerta che, come dice appunto il nome stesso, hanno come obiettivo quello di allertare, quindi di far emergere in via anticipata la crisi. Per capire nello specifico di cosa stiamo parlando, come funzionano e quali saranno gli effetti nelle imprese, ho il piacere di avere in studio con me l'Avvocato Matteo Spataro, dello studio legale Edoardo Ricci, Avvocati. Benvenuto. Buonasera, ragazze. Avvocato, strumenti di allerta, quindi abbiamo detto. Di cosa si tratta e qual è il loro ambito di applicazione? Come lei ha anticipato, sono sostanziali in obblighi che il legislatore ha imposto innanzitutto all'imprenditore e quindi se l'imprenditore è costituito in forma collettiva o societaria all'organo amministrativo. Inoltre agli organi di controllo in senso lato, quindi al collegio sindacale o al sindaco unico oppure al revisore contabile o alla società di revisione, ma anche ai cosiddetti creditori pubblici qualificati. Tutti obblighi funzionali alla intercettazione precoce dei segnali di crisi e quindi a prevenire, se possibile, che la crisi evolva in una situazione di insolvenza irreversibile e quindi a salvaguardia del patrimonio aziendale nell'interesse anche dei terzi e dei creditori. Si applica a chi? Al debitore che svolge attività imprenditoriale, anche all'impresa agricola e anche alle imprese minori. Sono invece però esclusi le grandi imprese, i grandi gruppi rilevanti, le società che abbiano azioni quotate in borsa o nei mercati regolamentati o con azioni diffuse presso il pubblico in misura rilevante secondo i criteri della Consob, oppure le banche, le SGR, le SICAV, le società di assicurazione, i fondi comuni di investimento, i fondi pensione e quindi in sostanza quei soggetti che sono già sotto la vigilanza di autorità preposte. Il presupposto oggettivo per l'applicazione delle misure d'allerta è che sussista una crisi, che è qualcosa di meno dello stato di insolvenza, essendo uno stato di difficoltà economico-finanziaria che lascia preludere a una probabile insolvenza futura. Ecco, lei prima mi ha parlato, ha accennato a una sorta di controllo, giusto? Quindi ci sono degli organi che sono preposti a controllare che poi non ci sia questo rischio? Certo. Quali sono? Innanzitutto il legislatore della riforma ha inteso responsabilizzare l'imprenditore stesso e quindi l'imprenditore o l'organo amministrativo il primo soggetto deputato a controllare che la crisi, se esistente, non evolva in uno stato di insolvenza. Quindi l'obbligo che impone all'imprenditore è quello innanzitutto di adottare degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili capaci di intercettare quanto prima l'eventuale stato di crisi. Poi, in seconda battuta, ci sono gli organi di controllo nei casi in cui l'imprenditore sia organizzato in forma societaria e costoro hanno l'obbligo di vigilare che gli amministratori abbiano adottato questi strumenti, questi assetti organizzativi e amministrativi e che siano efficienti e nel caso di inerzia degli amministratori nel attivarsi sia per verificare l'esistenza dei primi segnali di crisi, sia nel adottare i provvedimenti necessari ad affrontarla, superarla o quantomeno regolarizzarla, intervenire in prima battuta e quindi nei confronti dello stesso organismo amministrativo, segnalando se vi sono fondati indizi di crisi e sollecitando una presa d'atto e di risposta in un termine piuttosto breve, perché è prevista una relazione dell'organo amministrativo nel termine di 30 giorni dalla comunicazione che deve avvenire via PEC da parte dell'organo amministrativo. Poi vi sono anche i creditori pubblici qualificati che sono responsabilizzati a loro volta dal legislatore, si tratta dell'Agenzia delle Entrate, dell'Inps e dell'agente della riscossione, i quali devono monitorare costantemente l'esposizione del singolo imprenditore e quando questa superi certe soglie rilevanti, avvisare l'imprenditore, l'organo di controllo se presente e invitarlo a ripianare immediatamente l'intero debito, ovvero a assumere le iniziative opportune, tra le quali c'è in questo caso per quanto riguarda gli strumenti di allerta la composizione assistita della crisi che è rimessa all'OCRI, che è un altro organo di controllo che non ha degli obblighi di segnalazione o di iniziativa, ma che sulla istanza dell'imprenditore, ovvero dietro segnalazione degli organi di controllo o dei creditori pubblici qualificati deve intervenire. Quindi si tratta di un percorso abbastanza complesso, comunque una sorta di fase di controllo come lei mi ha accennato. Sicuramente sì, il legislatore in questo senso a mio avviso ha voluto, come dicevo prima, responsabilizzare tutti gli attori della vita imprenditoriale, dall'imprenditore agli organi di controllo interni ai creditori più rilevanti che in caso di insolvenza normalmente rimangono esposti con crediti piuttosto consistenti. In questo modo il legislatore ha voluto da subito attivare dei controlli proprio sull'assetto dell'impresa, volti tutti a una percezione per quanto possibile immediata e tempestiva della crisi e lo ha fatto concedendo all'imprenditore che immediatamente segnali in modo tempestivo, secondo dei criteri che sono stabiliti dall'articolo 24 del codice della crisi, segnali la propria intenzione di accedere alla procedura sotto la vigilanza dell'ocri. Quindi cosa succede in caso di emersione di segnali di crisi? Se l'imprenditore è diligente e avverte i primi indici della crisi fa spontaneamente istanza all'ocri per accedere alla procedura di composizione assistita della crisi. Se non lo fa l'imprenditore la segnalazione la deve fare l'organo di controllo interno. Qualora non lo dovessero fare questi due soggetti, sempre che ovviamente esista una situazione di crisi data da livelli di indebitamento verso gli enti pubblici che abbiamo citato prima, lo faranno i creditori pubblici qualificati. A fronte dell'istanza dell'imprenditore o della segnalazione degli altri organi, l'ocri nomina innanzitutto un collegio di esperti, di tre esperti, dei quali uno deve essere designato, sentito il debitore, tra i componenti delle rappresentanze dell'associazione di cui l'imprenditore fa parte. Questo perché si legge nella relazione al codice, il legislatore vuole che l'imprenditore senta come amico l'ocri, come un ente che lo affianca nella soluzione della sua crisi per risolverla. Una volta che l'ocri ha nominato il collegio convoca per un'audizione riservata il debitore e l'eventuale organo di controllo, questo al fine di verificare se effettivamente sussiste una situazione di crisi e quali possono essere le soluzioni più adatte al caso concreto per superarla o regolarla. Ecco, quindi diciamo che affinché queste procedure di allerta poi siano efficace è necessario anche che si sviluppi una certa cultura imprenditoriale, quindi di assunzione di responsabilità, insomma come diceva lei. Secondo lei oggi le imprese sono pronte a questo tipo di nuova cultura, quindi basata magari sull'approccio preventivo e anche una certa pianificazione interna o no? E se ci sono magari delle differenze anche tra grandi imprese e piccole e medie imprese sugli effetti magari di questa... Sicuramente il legislatore della riforma si è proposto un obiettivo ambizioso, che è anche di cambiamento, di maturazione culturale dell'imprenditore italiano, imponendo da un lato una visione prospettica dell'andamento dell'impresa, perché l'imprenditore al fine di percepire i segnali di un'eventuale crisi deve avere presente quale può essere la sostenibilità della gestione e dell'indebitamento soprattutto in una prospettiva almeno dei sei mesi successivi al momento in cui sta facendo la sua analisi. Quindi si richiede all'imprenditore un'attività di controllo costante con una visione prospettica, il che dà il senso di un'assunzione di responsabilità come impresa di ruolo sociale che ha anche l'impresa, soprattutto quando la crisi emerge, perché quando la crisi emerge il rischio è quello che l'imprenditore non colga gli indizi e quindi aggravi il dissesto e quindi ciò che poteva essere eventualmente affrontato in un momento in cui i sacrifici potevano essere contenuti, se non viene fatto può poi trascendere in uno stato di insolvenza irreversibile con l'evaporazione del patrimonio aziendale e la perdita quindi di tutto ciò che invece avrebbe potuto essere salvato eventualmente. C'è anche però... Prevenire è meglio che curare insomma. Esattamente, questo è il principio di fondo, prevenire è meglio che curare. C'è però secondo me un ulteriore aspetto molto interessante, perché il legislatore non tende a responsabilizzare solo l'imprenditore, ma anche i creditori pubblici qualificati, che fino ad oggi spesso hanno dormito al sonno dei giusti, lasciando che la propria esposizione, che poi è l'esposizione dei contribuenti, quindi chi paga l'insolvenza delle imprese quando questa insolvenza è caratterizzata soprattutto da ingenti esposizioni verso l'erario, sono i contribuenti. Questo perché storicamente gli enti pubblici, creditori pubblici qualificati, si sono dimostrati molto meno reattivi di altri creditori. Con la riforma questi creditori pubblici qualificati hanno il dovere di attivarsi, di monitorare l'andamento dell'esposizione dell'imprenditore e di intervenire avvisando e eventualmente segnalando all'Ocri una situazione che può essere preoccupante. E questo secondo me è molto importante anche perché il codice della crisi prevede delle sanzioni nel caso in cui i creditori pubblici qualificati non si attivino tempestivamente, perché nel caso in cui la crisi poi dovesse sfociare in stato di insolvenza e dovesse essere dichiarata la liquidazione giudiziale che è il vecchio fallimento, in quella sede l'Agenzia delle Entrate e l'Inps perderebbero il privilegio, il diritto di prelazione che assiste i crediti dell'Agenzia delle Entrate o dell'Inps e l'agente per la riscossione perderebbe il diritto a reclamare spese e oneri di riscossione. Quindi comunque è verosimile che qualora non ci fosse un cambio di mentalità anche da parte dei creditori pubblici qualificati, possano essere avviate delle iniziative da parte della magistratura contabile per danno erariale nei confronti dei soggetti responsabili. Quindi mi sembra che ci sia una visione di insieme che lascia ben sperare nel buon esito delle procedure d'allerta che tanto spaventano e giustamente spaventano in questo momento le imprese, ma che una volta entrate a regime assieme a un cambio per l'appunto culturale finalmente relegheranno quello che era il fallimento, cioè la liquidazione giudiziale al rango di estrema razio, vale a dire quando veramente l'insolvenza è ormai irreversibile e non c'è più nulla da fare se non la liquidazione giudiziale. In tutti gli altri casi sarà più conveniente per tutti, per il sistema in generale, l'adozione di misure preventive in un certo senso e meno invasive dal punto di vista della liquidazione del patrimonio aziendale. Ecco, quindi pensando un po' agli scenari, lei è ottimista insomma? Ma sì, voglio essere ottimista anche perché il legislatore non ha introdotto questi strumenti di allerta e si è disinteressato di quale sarà l'impatto degli stessi sul tessuto economico, perché è prevista l'istituzione di un osservatorio permanente che dovrà relazionare al Parlamento con cadenza annuale al fine di verificare come stanno andando le procedure d'allerta e proporre eventuali migliorie. Bene, il nostro tempo purtroppo a disposizione è terminato. Io ringrazio l'Avvocato Matteo Spataro per essere stato con noi e vi do appuntamento alle prossime interviste di Le Fonti Legal.